e allora dai fischia la fine o buonasera buonasera stavo finendo di vedere la partita tra porto e juventus porto che vince 2 a 1 juventus abbastanza devo dire la verità poca roba stasera non mi sembra abbia giocato molto bene rigore per la juventus mi sembrava abbastanza netto non dato dalla fine ma calcio è così è fatta anche di episodi due piccoli chiarimenti prima di arrivare al punto del video cari tifosi della juve quei pochi tifosi della juve amici che seguono il canale ma era veramente colpa di sarri mamma ma siete sicuri 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 che fosse colpa di sarri secondo me no secondo me no ma voi siete sicuri è col calcio fluido il pirlismo babbo seconda cosa a tifosi della fiorentina e anche altri tifosi della juventus che tifosi a fendere dicevano visto chiesa l'abbiamo dato via ma tanto andrà a fare panchina come tutti gli altri alla juventus un giocatoraccio sta tenendo in piedi gli sta tenendo in piedi la baracca appunto tifosi della juve voi vi lamentavate che chiesa non serviva cappellate varie è uno dei pochi di quest'anno vi gioca bene corre sempre fa pressing è uno dei pochi buoni quindi io ve l'avevo detto sia tifosi della fiorentina che dicevano che avevamo perso poco e che sarebbe andata a far panca alla juve se tifosi della juve che non lo volevano ragazzi mi dispiace dire ve l'avevo detto nel senso ben per voi avete un gran giocatore peccato per noi che non l'abbiamo più sinceramente perché antipatia o non antipatia antipatia o simpatia ci manca ma questo non era il punto del video il punto del video era per fare questi chiarimenti anzi ce n'è un terzo siccome io passo sempre come anticommisso come della valiano ma chiediamo una cosa io tipo la fiorentina a prescindere dalla presidenza l'ho già detto altre volte ho fatto video dove anche incitato il presidente commisso a farci vedere che comunque lui ci tiene alla fiorentina l'ho ringraziato per il viola park perché sicuramente quella è una cosa positiva ma io ragazzi critico se sento il bisogno di criticare ma mai sparato a zero assolutamente mai dubitato delle cose positive ha fatto però dove c'è da criticare io lo critico se poi mi smentirà e spero vivamente che mi smentirà perché io tipo la fiorentina quindi tifando la fiorentina spero che lui faccia bene però in questo momento permettetemi la piccola critica che ho fatto nemmeno chissà che che critica abbia fatto detto questo io volevo appunto fare dei piccoli annunci appunto di nuovi format nuove nuove appunto tipi di video nuovi format di video nuove rubriche che si aggiungeranno al canale qualcuna l'avete già vista perché le ho portate sperimentalmente sia di video registrati che live ma intanto andiamo a ricapitolare quelle che già conoscete il coffee break che sono tutti quei video corti tra i 5 tra i 3 10 minuti che faccio post partita pre partita video di mercato curiosità tipo questa appunto di stasera coffee break le ho numerate fino al ventesimo poi ragazzi ti numero ogni coffee break poi una rottura ai scatole quindi ho continuato a farli senza chiamarli coffee break l'angolo del pallone è quello non quello live quello registrato è quello dove porto youtubers della fiorentina o di altre squadre o anche comunque personaggi del mondo del calcio e della fiorentina dove l'intervisto sono i miei podcast a virgolette dove intervisto altri youtubers o altre appunto personalità come dicevo e da adesso si chiameranno l'angolo del pallone vidcast perché il podcast è un file audio questi sono video quindi un videocast o vidcast come dicono i pagliacci in inglese qua in america in canada quindi l'angolo del pallone diventerà l'angolo del pallone vidcast ma rimane lo stesso format come in live se l'avete già visto ci sono l'angolo del pallone live è la live con con i tifosi di tante altre squadre con youtuber di tante altre squadre dove parliamo di campionato di mercato di tutto ci sarà appunto la live quella viola che nella prima avevo chiamato the viola show ma adesso si chiamerà tifosi miei grazie a un consiglio che mi ha dato il mio amico otis grande tifoso e youtuber dell'atalanta che lo saluto perché lui vide il primo the viola show con pucci con leo con catto con pelo e disse gli era piaciuto molto era molto divertente e mi aveva detto di chiamarlo tifosi miei in onore di amici miei un film della storia cinematografica italiana italiana e scoprattutto toscana quindi accedo il consiglio e lo chiamerò tifosi miei abbiamo avuto il primo episodio di tifosi miei con delle pagine instagram e con mister viola che saluto anche loro saluto mister viola saluto sempre forza viola tutta viola e la doppietta viola che sono le pagine che ha ospitato e lo youtuber che ha ospitato la settimana scorsa per questo format ma veniamo a quelli nuovi o comunque quelli sperimentali c'è stato l'angolo del fantacalcio con il caro amico pierpaolo pastore che diventerà adesso più che l'angolo del fanta sarà un punto su perché faremo farò dei punti io comunque intervisterò delle altre personalità del mondo della youtuber calcistico facendo un punto sulla fiorentina sul campionato sul fantacalcio e via via decideremo l'altro format sperimentale che spero andrà avanti è soccer weekend che è una partita di cartello che non è la fiorentina a cui dedicherò una piccola recensione una piccola appunto post par video post partita ovviamente io tipo fiorentina e voglio parlare di fiorentina ma mi interessa anche parlare di calcio in generale quindi una partita per il fine settimana come è stata appunto interlazio che ho recensito di cui ho fatto il post partita pochi giorni fa continuerà con questa cadenza una volta a settimana se ce la faccio perché ragazzi tra lavoro e fuso orario è sempre difficile e quindi questo sarà l'altro format soccer weekend o hashtag soccer weekend se vogliamo fare i moderni oggi e il primo è stato appunto interlazio di cui troverete il link qua sotto se non l'avete ancora visto andatelo a vedere e l'altro format sperimentale in questo caso live è uno contro uno che abbiamo già sperimentato con col primo episodio dove ho avuto come ospite il mio amico il mio caro amico leonardo andreini è andato discretamente bene in questo caso uno contro uno è stato tra me e lui quindi abbiamo fatto per scherzo della balle contro gobisso ma era titolo scherzoso perché le siamo molto amici anche ora che lui lo sta lavorando su youtube e quindi questo continuerà continuerà sia con youtuber viola che con youtuber di altre squadre è una live ma invece di essere una live a molti ospite siamo solo io e un altro e un altro ospite per questo si chiama uno contro uno mi piace come concetto mi piace come format e lo riproporrò sicuramente nei prossimi giorni e questo ragazzi era l'ultimo volevo appunto fare il chiarimento su di questi appunto format di cui ho troverete anche una lista che andrà qui sullo schermo ragazzi perché mi piace anche editare i video ora se non l'avete ancora fatto seguitemi sui social iscrivetevi al canale se vi piace seguite sempre forza viola su instagram pagina viola ormai di altissimo livello i due admin bijo e jul sono veramente delle persone simpatiche per bene dei ragazzi veramente professionali seguiteli vi chiedo anche di seguire tutta viola pagina emergente sulla fiorentina con cui collaboro molto spesso anche e di cui con cui faremo molte live instagram molte dirette post partita mi aiutano anche a fare i top e flop per la mia pagina instagram ragazzi che vedete come sempre qua sopra di me gabe trattino basso cornet trattino basso podcast vi lascio il link di tutto questo in descrizione vi dico sempre forza viola e ci vediamo alla prossima la prossima